E non del tutto inedito perché dopo un anno di affiancamento al marchio Azimut Leo Shoes sarà il main sponsor della formazione giallo-blu un accordo che verrà presentato nei dettagli in conferenza stampa mercoledì mattina al Palapanini, intanto il nostro servizio d'apertura, sentiamo Non avrà più doppio nome e doppio main sponsor nella prossima stagione Modena Volley Sulle maglie giallo-blu il marchio principale sarà solo quello di Leo Shoes Dopo aver affiancato Azimut nell'ultima stagione l'azienda di calzature sarà l'unica a dare il nome alla squadra di Andrea Gianni in tutte le competizioni ufficiali che verranno disputate da ottobre in avanti Supercoppa, Campionato, Coppa Italia e Coppa Cev in ogni partita la squadra si chiamerà Leo Shoes Modena Volley un upgrade rispetto alla co-sponsorizzazione dell'anno scorso per l'azienda pugliese presieduta da Antonio Filograna Sergio Sarà lo stesso numero uno di Leo Shoes a presentare i dettagli dell'accordo con Modena Volley in una conferenza stampa in programma mercoledì al Palapanini Nata nel 2011, Leo Shoes si è affermata nel mercato del lusso producendo totalmente in Italia, nello stabilimento salentino di Casarano scarpe per diversi marchi di alto livello E quella per le sponsorizzazioni sportive è una vera vocazione visto che il marchio Leo Shoes sostiene a Casarano sia la squadra di calcio che quella di Volley contro cui Modena giocò in amichevole l'anno scorso Intanto, in attesa di vedere la nuova squadra e il nuovo marchio in azione i giocatori giallo-blu si prendono la copertina con la maglia delle nazionali E' il caso di Giulio Pinali, protagonista indiscusso dell'oro azzurre alle Universia di Di Napoli 25 punti nella finalissima, top scorer della manifestazione e di fatto l'NVP del torneo E tra l'azzurro universitario c'è anche un altro giallo-blu ad alternarsi in campo al palleggio con Zoppellari Nicola Salsi, cresciuto come Pinali nel settore giovanile di Modena e nella prossima stagione vice di Christensen nella prima squadra allenata da coach Andrea Gianni Senza dimenticare poi lo schiacciatore Marco Pierotti l'anno scorso in forza proprio a Modena Volley L'Italia, allenata dall'ex tecnico di Ravenna Graziosi ha superato in finale la Polonia 3-2 Eboli trascinata appunto da Pinali, protagonista di una super prestazione sia in battuta che in attacco Pinali, confermato in giallo-blu anche nella prossima stagione sarà il vice di Ivan Zaitsev nel ruolo di opposto